Epidemia nell'Ulssotto, positivo l'8,8% dei camponi, 7 morti nelle 24 ore. Nuova ordinanza regionale, domani aperte tutte le medie e grandi attività commerciali. Raggiunto il picco della seconda ondata, Zaia, faremo i conti col Covid fino ad aprile e maggio. Continuano gli accessi a numero chiuso nei negozi, i commercianti, la prova del 9 sarà sabato. Emergenza Covid, nell'Ulssotto raddoppia il numero dei ricoveranti rispetto alla scorsa primavera. Palazzo Tiene tra capolavori e oselle veneziane, ennesimo appello al governo perché ne faccia un museo statale. TG Vicenza ben ritrovati, il bollettino di Azienda Zero in apertura con il totale degli attualmente positivi che sale a 77.528 di cui 14.109 in provincia di Vicenza, 3.619, il dato aggiornato dei morti, sono stati 90 nelle ultime 24 ore. Vediamo il dettaglio dell'area dell'Ulssotto Berica. Col bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore, 5.037 tamponi di cui 445 positivi, ovvero l'8,8%, un solo ricoverato in area medica a Valdagno, nessuno in terapia intensiva, 7 i decessi, 313 i guariti. Il Presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza, un aggiornamento, che prevede la riapertura di tutte le attività commerciali sopra i 250 metri quadri, esclusi i centri commerciali. Si comincia da domani, sabato, domenica, ancora tutto chiuso. Avendo oggi noi introdotto questo principio unico a livello nazionale di un cliente ogni 20 abitanti, e 20 metri quadrati, e quindi capite perché l'abbiamo introdotto qualche giorno fa, diciamo il sabato aprono tutti. Il Presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza in vigore fino al 4 dicembre, che predispone la riapertura domani delle strutture di vendita sopra i 250 metri quadri. Questo alla luce delle ultime misure che prevedono entrate contingentate nei negozi con l'esposizione di cartelli che indichino la capienza massima di clienti. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita. Allora, vi hanno detto, il sabato si apre e nei giorni festivi resta tutto chiuso. Sabato e domenica restano invece chiusi i centri commerciali, come prevede il DPCM. E a proposito di DPCM, ieri c'è stato un incontro tra governatori e i ministri Boccia e Speranza sulle misure che saranno inserite nel prossimo decreto. È un DPCM che tocca tutta la fase dell'inverno, quella dura. Sarebbe auspicabile, visto e considerato che stavolta la rincorsa si è presa lunga, che questo DPCM venga scritto assieme alle regioni. Dal governo la garanzia che nel caso si chiude in montagna vi saranno i dovuti ristori. E su questo fronte sono arrivate rassicurazioni anche per misure economiche a favore di quelle realtà penalizzate dalle ordinanze regionali. C'è un fondo di 250 milioni di euro dedicato a quelle pochissime regioni. Io già dico che il base di 250 milioni è fiacco. Durante l'incontro con il governo è stato toccato anche il tema della riapertura delle scuole, che stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni potrebbe avvenire il 9 dicembre. Se è vero che il 9, il 9 a mio avviso è un errore, è un errore perché è troppo a breve, perché apriamo per richiudere dopo 10 giorni a farla grande. Invece facciamo una data che sia plausibile, che può essere il 7 gennaio, il 20 gennaio, il primo di febbraio. Tutto questo in un momento in cui i dati dell'epidemia dicono che potremo aver raggiunto il picco di questa seconda ondata, anche se, a detta di Zaia, continueremo anche nei prossimi mesi a fare i conti con il Covid. Io la vedo così, la vedo che noi avremo sta sinusoide che continuerà ad andare su e giù, su e giù, e ci accompagnerà fino almeno, almeno, fino ad aprile. Nei negozi rimangono, ci sono da ieri gli accessi contingentati, un numero chiuso definito in base ai metri quadri. I commercianti si adegono, ma la prova del fuoco sarà nel fine settimana. Il mio negozio è 17 metri quadri qua sopra. E quindi, in base alla nuova ordinanza, quante persone possono entrare? Una. Funziona? La gente aspetta? La gente non tutti ascoltano, alcuni devono mandarli fuori perché entrano in due, tre copie. Purtroppo, anche se c'è un cartello fuori scritto in rosso, non tutti guardano. Una persona ogni 20 metri quadri e così cambiano i numeri di quanti clienti possono accedere al negozio. Chi quattro, chi sei e chi, come i grandi store, aggiungono al cartello che indica quante persone possono accedere, anche l'incentivo a prenotare il proprio accesso al fine di evitare le code. E come vi trovate? È un po' difficoltoso perché magari si hanno un po' dei tempi anche ristretti, per cui magari aspettare va via un po' la giornata. Si porta pazienza. È l'unica. I negozianti si adeguano ormai abituati a DPCM e ordinanze, ma la prova del fuoco sarà il fine settimana. C'era già questa ordinanza. L'unica cosa sono state precisate le normative, nel senso che prima sopra i 40 metri era a discrezione del negoziante. Adesso c'è una regola, cioè 20 metri una persona. Meglio, quindi meglio. Almeno è specificato, sì. Il fatto di stare in coda a Mari fa sì che poi la gente si stufa e va via? Beh, vedremo intanto la prova di sabato, perché durante la settimana non è che ci siano le follie. Comunque dai, siamo ottimisti, bisogna sempre essere ottimisti. Io faccio entrare due persone, due persone e mezzo per la precisione, tre, ecco. E mi organizzerò di conseguenza. Vediamo un po'. Non c'è il timore che la gente è mai stando fuori da aspettare? Vediamo, certo che c'è il timore. Lo spazio c'è, quindi tre persone almeno le posso ricevere. La prova del fuoco sarà sabato? La prova del fuoco sabato e poi magari ci rivediamo la prossima settimana. Torniamo sui dati dell'Ulss 8, che ha messo in evidenza uno in particolare, il grande numero di ricoverati per Covid. È una situazione che, diciamo, è un po' arrivata al massimo della capienza degli nostri ospedali. Quasi 300 ricoveri per Covid negli ospedali vicentini. È il dato odierno ufficializzato dall'Ulss 8 Berica, praticamente il doppio rispetto al picco della prima ondata della pandemia in primavera. Una massa d'urto superiore anche alle attese. La situazione, seppur al limite, resta però sotto controllo. Meno pressione sulla terapia intensiva, occupata circa per la metà. La speranza è che a breve, a fronte del calo dei contagi, si traduca anche in un calo dei ricoveri. Abbiamo chiesto la disponibilità anche a due strutture private accreditate, Eretenia e Villa Berica, che ci hanno dato la disponibilità di posti letto qui. E poi abbiamo il doppio del personale contagiato rispetto alla prima ondata. Noi abbiamo ad oggi circa 300 operatori che sono stati contagiati, un centinaio sono già tornati per fortuna dopo la quarantena, ma ci sono 200 colleghi e personale oggi che sta a casa col Covid. E questo ci rende ulteriormente difficile gestire le unità operative. La sfida ora è mantenere la continuità delle prestazioni extra Covid. Rispetto alla prima ondata di marzo, in cui avevamo il lockdown, abbiamo ancora reparti tipo la medicina o l'ortopedia che sono ancora pieni. E quindi la difficoltà è garantire l'attività di questi reparti e garantire anche l'assistenza ai pazienti Covid. Comune di Vicenza e Polizia Locale hanno presentato un progetto contro l'uso di alcol e droga che ogni anno causano tanti incidenti stradali. Sangue sulle strade, come diminuire gli incidenti causati dalla guida in stato di ebrezza o in preda alla droga? Il governo è a caccia di progetti innovativi e sperimentali e mette sul piatto un finanziamento fino a 350 mila euro per i comuni capaci di trovare idee. Vicenza c'è e ha la sua proposta. Abbiamo coinvolto tutte quelle realtà istituzionali importanti, da primis la prefettura di Vicenza, la motorizzazione, l'ULS, le scuole, quindi anche l'ufficio scolastico provinciale, proprio per riuscire ad attivare tutti quei canali comunicativi nei confronti dei ragazzi. Quindi proprio un coinvolgimento dei ragazzi diretto anche, quindi la formazione degli insegnanti non solo delle scuole superiori, ma anche degli insegnanti delle scuole guida, in modo tale che abbiano anche loro una formazione per potersi rivolgere agli studenti in modo più semplice e più efficace. Ma anche l'attivazione di laboratori che portano i ragazzi a essere protagonisti, a essere loro portatori di queste informazioni con loro coetanei. A Vicenza il numero degli incidenti stradali provocati dall'alcol è in calo del 30%, 14 nel 2020 contro i 21 del 2019 e i 20 del 2018. Purtroppo però ancora la maggior parte di queste tragedie della strada colpisce giovani tra i 18 e i 30 anni. Oggi però con questo progetto, grazie ai contributi stanziati dal governo, la polizia locale potrà avere nuove armi, non tanto per la repressione ma per la prevenzione degli incidenti stradali provocati dal consumo di alcol e droga. Con questo progetto intendiamo anche, munendoci del contributo che verrà finanziato dallo Stato, dal Dipartimento, di opportune attrezzature e soprattutto con dei pretest degli analizzatori di saliva che sono finalizzati appunto a verificare la sussistenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Poi di un sistema di rilevamento topografico dei sinistratali che contribuirà a recuperare delle risorse umane dagli uffici. Le ciliegine sulla torta, abbiamo proposto di acquistare l'auto per la conduzione del cane dell'unità cinofila, che quindi il conduttore avrà un'auto proprio adibita al trasporto degli animali. La polizia locale si occupa anche dei controlli anti-covid, in particolare per quanto riguarda il rispetto del coprifuoco lungo le strade. Sicurezza, che in tempo di covid significa anche sicurezza sanitaria. La polizia locale di Vicenza dà una nuova stretta sul rispetto del coprifuoco in città. Dopo le nove di sera, tra Corso Santi, Felice Fortunato, Viale Verona, Viale San Lazzaro e Statale Undici, cinque prostitute sono state identificate e sanzionate per violazione del regolamento di polizia urbana. Tre lucciole sono state multate anche perché non avevano la mascherina. Raffica di controlli delle pattuglie della polizia locale che hanno coinvolto anche auto e persone a piedi. Un uomo è stato sanzionato perché trovato in strada dopo le dieci di sera e oltretutto senza mascherina. Avrete visto le immagini della statua decapitata a Marghera. Ebbene, il presunto responsabile è stato fermato dalla polizia in stazione a Vicenza. È palestinese, è un rifugiato e viene dal Belgio. È questo l'identikit del 31enne fermato in stazione a Vicenza e accusato di aver decapitato e mozzato le mani alla statua della Madonna di Piazzale Giovannucci a Marghera. Insomma, si tratta di un uomo che ha chiesto rifugio in Europa ma che, se le accuse verranno confermate, avrebbe usato male il suo tempo in Italia, il paese che lo ospita e dove lui si trova per di più senza permesso di soggiorno. Denunciato dalla Questura di Venezia per offese a una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose è scattata la procedura per espellerlo dall'Italia mentre gli investigatori della Questura di Vicenza avrebbero avviato un'indagine per terrorismo. Un ladro aveva atteso gli ultimi momenti prima della chiusura di un supermercato ma è stato pizzicato dal gestore. Un tentativo di furto bloccato dalla polizia è accaduto in un supermercato in città verso le 20 di ieri sera. Un algerino di 51 anni aveva occultato alcuni articoli in vendita senza pagarli alle casse tentando poi di allontanarsi in fretta dall'esercizio commerciale. I suoi movimenti però erano stati notati da uno dei responsabili del punto vendita che ha immediatamente allertato gli agenti della Questura. I poliziotti hanno poi intercettato lo straniero che risultava già noto per piccoli precedenti penali. L'uomo, denunciato per tentato furto aggravato, è stato inoltre messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura perché è sprovvisto di alcun titolo di soggiorno che lo autorizzasse a permanere sul territorio nazionale. Salviamo Palazzo Tiene, noi di Rete Veneta torniamo a chiedere al Governo di farne un museo aperto al pubblico. Palazzo Tiene diventi un museo statale aperto al pubblico. Noi di Rete Veneta è dal 2017 che chiediamo al Governo di esercitare il diritto di prelazione in virtù di un sacrosanto interesse nazionale. Per dimostrarlo abbiamo già citato le opere esposte nell'antica sede di BPV nate dalle mani di maestri eterni come il Tintoretto, Jacopo Bassano, Bartolomeo Montagna. Stiamo parlando di esponenti della pittura veneta capaci di esprimere una forte influenza in tutto il mondo ma abbiamo ricordato anche i toscani Carlo Portelli e Francesco Zuccarelli, il bolognese Giovanni Battista Ramenghi, detto bagna cavallo il giovane, per non parlare delle opere della scuola di Fontainebleau a cui appartengono artisti attivi nella corte di Francia. Come non bastasse Palazzo Tiene, patrimonio dell'UNESCO è stato progettato da Giulio Romano, il miglior allievo di Raffaello, eseguito da Palladio e decorato con stucchi e sculture dal trentino Alessandro Vittoria. Oggi però vogliamo ricordare anche la collezione più completa al mondo di oselle veneziane, le monete e medaglie d'argento e d'oro, coniate dalla Serenissima e donate dal doge alle personalità a partire dal 1521 fino al 1797, anno della caduta della Repubblica. Il valore artistico e culturale di Palazzo Tiene è tale che nel luglio del 2017 il governo accolse un ordine del giorno in cui si impegnava ad acquisire l'antica sede di BPV e a metterla a disposizione della città del Palladio. Allora come oggi il ministro dei beni culturali era Dario Franceschini, eppure in questi tre anni non è accaduto niente. Concludiamo con alcune considerazioni. Lo Stato non vuole versare i 3 milioni di euro che a detta del sindaco sono sufficienti per acquistare il palazzo? E allora perché ne ha spesi almeno tre volte tanti per esercitare il diritto di prelazione sull'isola Ligure di Gallinara? La storia culturale del nostro paese non dovrebbe essere uno dei valori fondanti della società? Cosa è rappresentativo nel mondo dell'Italia, del Veneto e di Vicenza se non l'arte dei grandissimi maestri del passato? E cosa è più rappresentativo della città del Palladio se non il patrimonio culturale del Rinascimento? Insomma, caro governo, caro ministro Franceschini, cosa serve ancora per farvi mantenere la promessa già fatta nel 2017? In attesa di una risposta, la nostra battaglia continua. Sport in casa condotto da Alex Giuliano ospita stasera Alberto Briaschi, direttore sportivo della Luparense per parlare di Serie D, mercato e abolizione del vincolo sportivo. La nostra serata con focus condotto dal nostro direttore Luigi Baciagli che avrà come ospiti Riccardo Barbisan, Tania Busetto, Luca De Carlo, Gianmarco Lu, Angela Silvestrini, Massimo Venturato, Elisa Venturini e Giovanni Zorzi. È tutto anche per questa edizione di TG Vicenza. Vi lascio al meteo. Buona serata. Veneta Lab Breganze Si eseguono tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 7 alle 11, tamponi molecolari e rapidi anche in modalità drive-in. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe parte del centro-sud, ma il nostro territorio rimarrà ai margini di questa bassa pressione e dunque il tempo si manterrà stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto nella giornata di sabato 28 novembre avremo foschie e locali nebbie sulle zone pianeggianti. Spesso saranno anche fitte e localmente persistenti. Non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate. In montagna il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra meno 3 e 4 gradi, valori massimi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia. In mattinata saranno possibili nubi basse e nebbie, ma saranno destinate a dissolversi con il passare delle ore. Andrà decisamente meglio dal pomeriggio con più ampio soleggiamento. Temperature stazionali. Dal Meteo di Rete Veneta è tutto. Arrivederci.